E un saluto a augurare di buon paio a tutti gli atleti delle sei squadre. Buongiorno a tutti, ciao a tutti, vi abbraccio con grande affetto. Il vostro entusiasmo è un entusiasmo contagioso. Il messaggio di Martina credo che non può essere ripetuto. Ha detto parole straordinarie, ha detto parole che mi hanno veramente commosso e che cercherò adesso di copiare. Sapete che il messaggio del nostro Parma Calcio 1913 viaggia in questa direzione. Vogliamo fare un calcio pulito, vogliamo fare un calcio che rispetti i valori che devono essere le basi fondamentali per lo sport. Io veramente vi auguro, è un onore per me ed è un privilegio di pochi essere qui presenti oggi, vi auguro veramente un maggio pieno di entusiasmo. E da Presidente del Parma Calcio vi invito, anzi è un invito speciale che voglio fare alla squadra che vincerà e che sarà la protagonista di questi giochi. Mi auguro sia ospite una domenica al Tardini nel prossimo campionato. Ma non solo la prima, anche l'ultima, anche l'ultima che avrà avuto meno soddisfazione, ma io mi auguro che veramente in questa attenzione, in questo confronto non ci siano cose che vanno al di là della gara sportiva. Veramente sono molto felice, io spero che il vostro Presidente e i vostri dirigenti mi richiamino anche l'anno prossimo a fare la stessa cosa. Grazie e buon divertimento. Grazie signor Scania.